Generazione Scuola in Cammino con Globe. Questo il titolo di un progetto di sostenibilità ambientale e transizione ecologica ha portato avanti con successo dall'Istituto Comprensivo Mariano Rossi di Sciacca. I dettagli sono stati presentati questa mattina nell'ambito di una conferenza che si è tenuta presso i locali della Lega Navale. Tra gli obiettivi, quello di verificare l'eventuale presenza di microplastiche nelle acque del mare di Sciacca, lungo la costa di capo San Marco Maragani. I dettagli in queste interviste. Adesso siamo molto più consapevoli dell'impegno che ha la nostra generazione nel preservare le risorse naturali, ma soprattutto nel pubblicizzare la terra con uno stile di vita più ecologico, quindi eliminando molto inquinamento che in realtà si trova nella terra. Nella fase sperimentale abbiamo analizzato delle membrane che appunto abbiamo raccolto dai campioni d'acqua e abbiamo così trovato delle microplastiche. Il progetto GLOBE è un'iniziativa scientifica di educazione ambientale che serve ad aumentare le nostre conoscenze scientifiche sul nostro pianeta Terra. Infatti durante quest'anno scolastica abbiamo discusso sull'acqua che è una risorsa molto fondamentale per gli esseri viventi e per il nostro pianeta e sui problemi che noi umani stiamo causando. L'obiettivo 14 afferma che dobbiamo salvaguardare le acque marine, evitando l'inquinamento dei mari e degli oceani. Oggi, 11 aprile, siamo qui alla Lega Navale di Sciacca per celebrare la giornata del mare. Infatti la plastica gettata in mare poi si trasforma in microplastiche, cioè pezzetti minuscoli dannosi sia per noi sia per i pesci. L'attività svolta in questo periodo e la partecipazione al progetto nazionale ci hanno fatto riflettere sulla tematica dell'acqua. È un bene prezioso e non va sprecato, è anche parte integrante del nostro organismo, quindi non va nemmeno inquinata. L'auspicio di noi giovani e delle generazioni future è quello di risolvere il cambiamento climatico, fattore limitente sulla salvaguardia dell'acqua. Questo è un progetto che l'Istituto Comprensivo Moreno Rossi ha adottato quest'anno, in quanto facciamo parte di una rete di scuole che, distribuite in tutto il territorio nazionale, fanno parte appunto di un'associazione, diciamo, alternatura nazionale che si chiama Globo Italia, in corprogettazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e in collaborazione con dei ricercatori della Duke University dell'Australia. È un progetto che si basa sull'evidenziazione di parametri chimico, fisico e di presenza di microplastiche nelle acque. Noi abbiamo scelto le acque del mare, visto che Sciacca è una città del mare e quindi andremo ad analizzare questi parametri in modo che diamo la possibilità ai nostri alunni e quindi a tutta la collettività della città della salubrità del mare, cioè della salute del nostro mare. Infatti, tutti i parametri che noi rileviamo verranno inseriti in un data sheet internazionale e quindi, una volta validati dai ricercatori australiani, verranno poi inseriti e, diciamo, condivisi con la comunità internazionale. Sciacca è legata al mare e quindi oggi si celebra la giornata del mare e della cultura marinara. Nella nostra scuola abbiamo sempre promosso delle attività ambientali che sono legate quindi alla conoscenza, alla consapevolezza del patrimonio culturale e del patrimonio ambientale che insiste nel nostro territorio. Quindi oggi i nostri alunni, in collaborazione con la Guardia Costiera, stanno assistendo ad una serie di incontri e stanno effettuando tantissime attività interessanti perché in questo modo vengono sensibilizzati ad assumere una cultura ed una cittadinanza del mare.